Ciao a tutti, io sono Riccardo Cosi, sono iscritto al sesto anno del corso di laurea di odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università degli Studi dell'Insubria. L'Università dell'Insubria, soprattutto negli ultimi anni, ha instaurato vari rapporti con l'estero, con delle università e con degli studi odontoiatrici privati. Proprio grazie a questo ho avuto l'opportunità e il supporto da parte dell'Università stessa di trascorrere un periodo all'estero. L'ho fatto in Portogallo presso l'Istituto Egemonische di Lisbona e lì ho avuto la possibilità di frequentare attivamente la clinica, i reparti di pedodonzia, di endodonzia, di chirurgia orale e altri. Ho seguito anche dei corsi durante i fine settimana e degli incontri con dei relatori nazionali e internazionali. L'esperienza all'estero è un qualcosa sicuramente di positivo, che consiglio a tutti, in quanto permette di crescere, di conoscersi e di migliorare sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista umano. Instaurare dei rapporti di amicizia e o professionali nel futuro e soprattutto di migliorare le lingue, in primis l'inglese e poi di aggiungere al proprio bagaglio anche un'altra lingua che nel mio caso è stata il portoghese. Quindi io vi auguro buona fortuna e spero di vedervi presto all'Insubria. Ciao!